Ciao e bentornati sul canale! Oggi c'è direttamente la partita e questa è la vendetta perchè l'altra volta non sono riuscita a vincere quindi c'è la vendetta che non so se sarà molto vendicativa perchè credo che perderò di nuovo con queste super palle di neve poi eh però ci sono vai eeeh eeeh quante gente che va sul lato forse perchè si spreca meno tempo e vogliono vincere boh e no non mi fregate si mi avete fregato sto per dire non mi fregate eeeh no wow ragazzi no vabbè ma proprio quello centrale nooo brutto alieno oh dai ma vi sembra giusto cioè ero lì uno mi ha spinto giù ero quasi arrivata uno mi ha spinto giù ma vi sembra giusto i pollicini fa ok confirm confermiamo che vogliamo e adesso giochiamo con la X e aspettiamo ok finita l'attesa talmente brava che non vinco mai in questa non sono per niente brava in questa però posso farcela perchè mettono sto slime che limita tutto se potete passate sui sui rulli lì che non si muovono se riuscite ovviamente uno mi ha buttato giù e non sono riuscita ovviamente quando si apre quando io sono dietro al cancello non ci sono le super super mega palle che andavano avanti indietro questa cosa è molto più difficile questo coso perchè mettono sto slime 38 devo fa no non ci ho fatta va bene va bene fa niente non ci ho fatta vedete non riesco in questa mi fermo sempre allo slime per il resto non è una gara così difficile c'è la parte con lo slime che mi frega allora io boh non lo so voi che cosa mettereste vabbè metto queste scarpe sopra antennine o unicorno antennine antennine face bah devo essere una specie di alieno quindi si nero va bene allora devo dire questo è molto bello però non mi piace questa tonalità marrone è bruttissimo bianco azzurro no giallo e rosa no 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 e basta quindi direi che farò questo dai ok e con questo alienino sfumato dall'azzurra rosa io vi ricordo di iscrivervi al canale mettere like condivide condividere accende accendere la campanella e io come sempre vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao